Avrebbe monopolizzato il mercato ortofrutticolo di Siracusa con intimidazioni mafiose ed estorsioni. La Polizia di Stato ha così eseguito 19 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Catania a carico di persone accusate di associazioni a delinquere di stampo mafioso finalizzate alle estorsioni, traffico di sostanze stupefacente, turti in abitazione ed aziende agricole. Le indagini che hanno preso avvio nel maggio del 2015 hanno consentito di accertare l'operatività nei territori del sud della zona della provincia aretusea di un gruppo delinquenziale denominato Clan Giuliano, capeggiato dai boss Salvatore Giuliano che grazie alla sua forza di intimidazione esercitata dai suoi appartenenti aveva monopolizzato e condizionato l'intero mercato ortofrutticolo della zona. L'indagine si è incentrata proprio sulla figura del boss, sugli uomini di sua stretta fiducia e sulla progressiva ascesa del gruppo a vero e proprio sudalizio mafioso in grado di acquisire il monopolio nella produzione e nello smistamento dei prodotti ortofrutticoli coltivati nelle numerose serre presenti in quei territori. Grazie ai legami vantati nell'ambito della criminalità organizzata catanese con il Clan Cappello e al patto di non belligeranza siglato con la consorteria rivale della Trigila, Giuliano si era quindi assicurato lo spazio operativo per denominare in contrastato nei territori di Pachino. La principale fonte di guadagno del gruppo derivava dal condizionamento del ricco e fiorente mercato ortofrutticolo che da sempre costituisce in quei territori la più rilevante attività economica. Per ottenere questo risultato il sudalizio mafioso avrebbe dato vita ad un'attività imprenditoriale che si occupava del commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli. L'attività commerciale non operava secondo le regole del libero mercato ma ricorreva a forme di pressione intimidatoria sugli operatori del settore costringendo i produttori a versare il loro raccolto nei magazzini della suddetta attività in modo da ottenere il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo dell'attività di mediazione per la successiva vendita della merce agli operatori della grande distribuzione. Allo stesso modo anche i commercianti che ne devono acquistare i prodotti coltivati nelle serre di Pachino per rimetterli successivamente nel mercato finale dovevano trattare con Giuliano ed il suo gruppo senza potersi interfacciare direttamente con i coltivatori. Le illecite attività del sudalizio però sembra che non si limitassero soltanto al condizionamento illecito del mercato ortofrutticolo. La capacità di penetrazione del clan infatti sarebbe stata tale da colpire anche le altre principali attività economiche della zona. Anche il settore dei parcheggi a pagamento, sicuati a ridosso delle zone balneari, ricadeva infatti sull'influenza dei clan. E' stata inoltre consestata l'estorsione perpetrata ai danni del titolare di un lido balneare stagionale costretto a versare al clan una somma di denaro in cambio di un presunto servizio di guardiania svolto in suo favore. Secondo quanto emerso nel corso dell'attività, alcuni degli arrestati si sarebbero occupati della commissione di furti di macchinari agricoli che venivano asportati alle aziende agricole inesistenti nel territorio di Noto, Rosolini e Palazzo Acreide. Inoltre è stata riconosciuta l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che faceva giungere a Pachino ingenti quantitativi di cocaina per rimetterli successivamente sul mercato.